Dopo averli provati insieme per 7 giorni sono finalmente pronto per dirvi la mia su questi due smartphone, due smartphone per alcuni versi molto simili ma anche molto diversi. Sto parlando di Honor View 10 che abbiamo recensito giusto qualche giorno fa e di OnePlus 5T, due telefoni appunto molto simili che puntano tantissimo sulle prestazioni che hanno la stessa scocca in alluminio in pratica e le stesse fotocamere almeno numericamente. Ma per quanto riguarda poi il resto sono parecchio diversi e allora andiamo a scoprire quale dei due mi ha convinto di più all'interno di questo nostro confronto. Ovviamente ragazzi io so già perché in questo caso nonostante il confronto sia difficile da fare so già quello che tra i due smartphone mi è piaciuto di più però ve lo dirò alla fine e soprattutto vi invito a ricordare che questo è un mio parere personale così come magari voi potrete pensarlo in modo diverso. Ma partiamo dall'estetica. Beh devo dire che dal punto di vista estetico nessuno di questi due smartphone mi ha convinto fino in fondo perché sono entrambi sul fronte un po' anonimi. Allora se da un certo punto di vista preferisco il design un po' più curvo, un po' più tondeggiante di OnePlus 5T, dall'altra parte approfitto in alcuni casi del sensore di impronte digitali di Honor View 10K sul fronte anche se per alcuni aspetti non è comodo. E ancora sul retro invece qui abbiamo il sensore di impronte che si raggiunge meglio però non lo vediamo quindi magari quando appoggiamo il telefono sul tavolo o mentre siamo in macchina se appoggiamo il telefono su un supporto insomma non possiamo utilizzare il sensore di impronte. Quindi ci sono alcuni aspetti che mi fanno propendere per l'uno e per l'altro. Ad esempio a favore di OnePlus 5T c'è anche lo switcher qui per passare dalla modalità normale a quella silenziosa e al non disturbare. Poi su entrambi i telefoni abbiamo comunque la stessa dotazione di porte quindi USB-C, jack. È veramente difficile scegliere dal punto di vista estetico ma credo che la cosa principale che mi fa preferire alla fine OnePlus 5T è probabilmente il fatto che OnePlus ormai ha creato un design iconico. Quel design iconico l'ha creato anche Honor ma quello di OnePlus 5T forse è stato un attimino più ricercato ma soprattutto sul retro questo telefono essendo un po' bombato sta un po' meglio in mano. Si utilizza un po' meglio mentre l'Honor V10 è un po' più scomodo. Quindi per questo motivo direi che alla fine il design che mi ha convinto di più è quello di OnePlus 5T ma veramente parliamo di dettagli perché anche Honor V10 non è poi così male. Su entrambi gli smartphone poi c'è il Face Unlock. Face Unlock interpretato in modo un po' diverso a seconda che si tratti appunto di OnePlus 5T o di Honor V10. Honor ha dalla sua il fatto che possiamo fare proprio come su iPhone così sollevare il dispositivo e poi scorrere verso l'alto oppure se scegliete di abilitare istantaneamente il riconoscimento del volto basta scorrere verso l'alto e lui vi riconosce e si sblocca. Su OnePlus 5T questa funzione non c'è perché infatti se lo tiriamo su non succede nulla ma il riconoscimento può beneficiare anche di una soluzione per sbloccare il telefono al buio che invece non c'è qui. In pratica lo schermo spara al massimo la luminosità e mette uno sfondo bianco in modo che grazie alla luce emessa dallo schermo stesso il telefono riesce a riconoscervi di notte. Questa funzione può salvarvi in alcuni casi ma ad esempio a notte fonda non funziona lo stesso. Qui manca proprio quindi lui di notte non lo sbloccate però come vi dicevo c'è il Race to Wake che può essere comodo. OnePlus 5T ha un riconoscimento secondo me un po' più veloce nel complesso e ha comunque questa funzione per sbloccare al buio. Quindi tra i due riconoscimenti del volto tendo a preferire quello di OnePlus 5T che mi sembra un po' più affidabile. Quello di Honor View 10 ha questa funzione in più del Race to Wake ma tutto sommato poi è quello che funziona peggio tra i due. Passiamo però subito all'hardware perché qui è dove forse i due telefoni si differenziano di più ma entrambi offrono ottime prestazioni. Prestazioni da veri e puri top di gamma. Da una parte abbiamo il Kirin 970 di Huawei accompagnato da 6 GB di RAM dall'altra parte abbiamo il OnePlus 5T con lo Snapdragon 835 e poi ci sono due configurazioni una sempre da 6 GB e l'altra da 8 GB di RAM. Da questo punto di vista ovviamente il mio confronto è influenzato perché ho provato il OnePlus 5T con la RAM da 8 GB mentre l'Honor View 10 appunto è disponibile soltanto in versione da 6 GB di RAM e quindi chiaramente ho notato una gestione migliore della RAM su OnePlus 5T. E soprattutto la possibilità di tenere aperti più processi in background su questo smartphone rispetto a questo. Tuttavia il software stock quasi stock di OnePlus 5T non è detto che giri poi sempre meglio rispetto ad un software un po' meno stock come quello di Honor e di Huawei ma sicuramente più ottimizzato per l'hardware proprietario. Infatti devo dire che nell'utilizzo pratico poi alla fine se si esclude la differenza sulla RAM i due telefoni sono praticamente identici. Probabilmente OnePlus 5T è un po' più scattante nell'aprire le app grazie anche però bisogna dirlo a delle animazioni un po' più ristrette un po' più veloci. Mentre lui ha delle animazioni un po' più lente ma quando poi l'app è stata avviata recupera praticamente tutto su OnePlus 5T quindi vanno più o meno alla pari nonostante appunto io abbia testato la versione da 8 GB qui e ovviamente qui da 6 GB. Entrambi vi daranno ottime sensazioni nell'utilizzo quindi da questo punto di vista posso soltanto preferire il OnePlus 5T perché c'è anche in versione da 8 GB di RAM ma per il resto insomma vanno assolutamente alla pari. Schermo come vi dicevo molto simili entrambi hanno gli angoli dello schermo leggermente curvi non alla S8 però si avvicinano 18 noni full HD plus entrambi. La differenza più grossa quindi non è nella risoluzione nella diagonale e direi anche nei colori perché sono entrambi riprodotti molto bene la differenza maggiore l'abbiamo in tema di luminosità perché ho trovato quello di Honor View 10 il pannello di Honor View 10 leggermente più luminoso. Ho trovato gli angoli di visione migliori su Honor View 10 ma lui essendo un OLED ha dei neri assoluti che sono pazzeschi. Quindi secondo me alla fine è anche qui un pareggio l'unica cosa è che ormai OnePlus credo sia l'unica ad offrire uno schermo OLED in questa fascia di prezzo che comunque sappiamo che si traduce generalmente poi alla fine in una resa dell'immagine nella maggior parte delle condizioni ottimale. Certo se portate al massimo la luminosità dei due pannelli vi accorgerete che l'IPS di Honor View 10 è più luminoso però la luminosità al massimo non l'avrete quasi mai se non sotto la luce diretta del sole quando il sensore di luminosità ambientale la sparerà appunto a livelli altissimi. Però nel quotidiano devo dire che ho apprezzato di più lo schermo di OnePlus 5T anche perché è un po' più saturo probabilmente un po' meno fedele rispetto a quello di Honor View 10 ma sicuramente più appagante. La connettività è buona su entrambi i telefoni però c'è una differenza che secondo me fa propendere a favore di OnePlus 5T cioè la presenza del Bluetooth 5.0 non è una cosa fondamentale però qui abbiamo soltanto il Bluetooth 4.2. Per il resto wifi doppia banda su entrambi LTE su entrambi USB-C su entrambi NFC su entrambi insomma sono veramente speculari da tutti gli altri punti di vista anzi no perché l'Honor View 10 ha il sensore qui per controllare tramite infrarossi una tv o qualsiasi altro dispositivo IR per appunto rinunciare ad un telecomando ad esempio. Non che sia un qualcosa che mi trovo a fare molto spesso però ecco è una chicca in più mentre qui questa funzionalità non c'è. In ambito audio devo dire che ho trovato il volume di OnePlus 5T parecchio più potente di quello di Honor View 10 ma se poi si fa attenzione all'ascolto e si giudica quindi la qualità da quel punto di vista lo speaker di Honor View 10 mi ha convinto di più di quello di OnePlus 5T. Entrambi però hanno comunque la possibilità come vi dicevo prima di collegare cuffie via cavo per ascoltare meglio la nostra musica ma se volete ascoltarla con uno standard di connessione migliore che ampia il range e ampia anche la stabilità del segnale il Bluetooth 5.0 come vi dicevo prima può essere un'aggiunta molto più interessante qui rispetto al 4.2 che troviamo su Honor View 10. Siamo arrivati alla differenza forse più importante tra i due smartphone che il software di base è lo stesso Android 8.0 Reo Android 8.0 Reo da una parte però abbiamo un software molto più personalizzato che è la MUI 8 realizzata da Huawei e personalizzata leggermente da Honor. Un'interfaccia molto ricca di caratteristiche aggiuntive di default non c'è un drawer delle applicazioni ma si può introdurre c'è anche una possibilità per rinunciare completamente alla barra di navigazione sostituendola al singolo tasto fisico e ad alcune gesture che possiamo eseguire su di esso ad esempio scorrendo lateralmente orizzontalmente sul tasto richiamiamo il multitasking tenendolo premuto utilizziamo il tasto home e così via. Dall'altra parte abbiamo la Oxygen OS di OnePlus 5T che è praticamente un Android stock ma molto più personalizzato se qui abbiamo una personalizzazione in ottica funzioni ad esempio ci sono tantissime opzioni per il risparmio energetico sul OnePlus 5T la personalizzazione si traduce proprio nell'aspetto forse più interessante per tutti coloro a cui piace moddare il dispositivo perché qui si può fare veramente tanto possiamo riassegnare i tasti possiamo cambiare ogni singolo aspetto del dispositivo possiamo ricorrere anche a ROM alternative e ce ne sono molte di più per OnePlus 5T non credo in realtà ne esistano per Honor View 10 al momento quindi è sicuramente un telefono più da modding il OnePlus 5T rispetto all'Honor View 10 l'esperienza d'uso però è assolutamente alla pari seppur diversa perché qui ad esempio abbiamo un drawer delle applicazioni già di default che non si può disattivare qui il drawer dobbiamo attivarlo dalle impostazioni ma nel complesso ecco forse soltanto dal punto di vista estetico tendo a preferire un po' di più l'interfaccia di OnePlus ma è praticamente quella stock entrambi hanno tutte le funzionalità standard di Oreo i dots le notifiche gestite in modo molto preciso la possibilità di rimandare le notifiche il picture in picture insomma tutto ciò che introduce Oreo ma devo dire appunto che forse l'immediatezza maggiore l'ho trovata nella Oxygen OS nonostante comunque questo sia anche uno dei punti a favore della MUI rispetto ad altre ROM ma probabilmente OnePlus 5T anche grazie a quelle famose animazioni molto più ridotte nel quotidiano risulta molto più semplice e intuitivo da utilizzare rispetto ad Honor View 10 che è comunque molto veloce anche lui nell'esperienza di utilizzo parliamo delle fotocamere le anteriori su questo smartphone scattano foto piuttosto simili sinceramente la differenza è che lui tende sempre ad attivare la modalità bellezza nei selfie che poi va puntualmente disabilitata se no gli scatti saranno molto processati a livello di software e questa cosa assolutamente non mi piace il OnePlus 5T ha un approccio invece un po' più puro infatti questa differenza la ritroviamo anche negli scatti con le cam posteriori lui è un po' più fedele lui tende ad interagire tanto anche con il software dalla sua però bisogna dire che ci sono molte 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 più funzioni nell'app fotocamera di Honor View 10 rispetto a quelle che troviamo all'interno dell'app di OnePlus tutto sommato poi alla fine gli scatti non sono diversissimi ma devo dire che come potete anche notare dalla comparazione forse il OnePlus 5T ha un livello di dettaglio leggermente maggiore e gli scatti vengono anche un po' più colorati sono un po' più saturi quelli di Honor View 10 mi sono sembrati sempre un po' spenti un po' più spenti rispetto ad altri smartphone nei video devo dire la situazione è abbastanza buona su entrambi però l'Honor View 10 traballa un po' di più invece la stabilizzazione su OnePlus 5T non è affatto male e il dettaglio mi è sembrato maggiore qui di notte la situazione è peggiore un po' per entrambi ma anche qui Honor View 10 forse soffre un po' di più negli scatti ad alte ISO quindi nel complesso la fotocamera che mi ha convinto di più pur essendo due smartphone su cui la fotocamera non è sicuramente uno dei punti di forza è OnePlus 5T e infine parliamo della batteria qui da un certo punto di vista OnePlus 5T sto provando attualmente la versione beta l'Oxygen OS ma anche con la precedente versione non beta non mi ha convinto del tutto si fa la giornata senza problemi ma se già vogliamo allungarci un po' oltre la mezzanotte con un uso abbastanza standard potremmo avere qualche problemino soprattutto questa situazione non è migliorata dal fatto che mancano praticamente del tutto delle opzioni di risparmio energetico serie perché l'unica che c'è è quella standard di Android che non fa quasi mai nulla quindi una volta che lui è scarico è scarico dovete arrendervi oppure cercare un power bank o un alimentatore il prima possibile dall'altra parte Honor View 10 garantisce non solo più autonomia a livello generale ma è anche uno smartphone che offre molte più opzioni di risparmio energetico quindi potete ad esempio ridurre la risoluzione dello schermo andare ad attivare la prima modalità di risparmio soft oppure passare poi a quella un po' più intensa e appunto oltre questo la batteria dura già di più di per sé ma poi potete farla durare ancora di più grazie a queste opzioni quindi se cercate un batteri phone questo per me tra i due è Honor View 10 è giunto per il momento delle conclusioni questi due sono due ottimi smartphone che non hanno grossi difetti hanno qualche mancanza hanno qualche aspetto che poteva essere un attimo migliorato ma difetti non si può dire che ne abbiano se da una parte OnePlus 5T mi ha convinto con le sue prestazioni con il suo schermo dall'altra parte mi ha deluso ad esempio per la batteria che non è scarsa però Honor View 10 fa meglio dall'altra parte Honor View 10 però pecca intanto per un sistema di sblocco sia tramite riconoscimento del volto sia tramite impronta che non è secondo me affidabile come quello di OnePlus 5T dal punto di vista del software sono praticamente la stessa cosa con interpretazioni diverse con personalizzazioni diverse e per tutto il resto insomma i telefoni più o meno se la giocano su ogni aspetto la connettività è più o meno lì c'è chi ha il Bluetooth 5.0 c'è chi ha l'infrarosso insomma sono due telefoni veramente quasi alla pari se io dovessi scegliere però sto guardando da questo lato perché sceglierei lui principalmente per la filosofia dell'azienda per gli aspetti modding per le prestazioni pure e soprattutto in questo caso per la possibilità di avercelo anche in versione con 8 GB di RAM che in prospettiva futura non si sa mai potrebbero servire al momento sono abbastanza inutili ma in futuro potrebbero servire e anche per l'approccio agli aggiornamenti da parte di OnePlus e su questo aspetto anche Honor deve un po' migliorare perché sappiamo che con i suoi dispositivi si li aggiorna ma non a lungo mentre OnePlus ha un supporto nel tempo decisamente più convincente ma ragazzi a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate voi del confronto tra OnePlus 5T e Honor View 10 fatemi sapere quale avete scelto quale sceglierete qui sotto nei commenti e noi ci risentiamo ad un prossimo video ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.it